Ciao e benvenuti a Crochet Romance e alla scuola di uncinetto per mancini e anche per la mano destra ormai In questa video lezione andiamo a realizzare il punto puff, come lo volete chiamare e ci servirà questo punto per il prossimo progetto che è uno shawl bactus che sto preparando per voi Vediamo insieme come farlo Come base avvio delle catenelle In modo molto casuale, questo è solo un esempio per farvi vedere come si lavora il punto puff Ok, ho avviato un paio di catenelle Adesso faccio ancora 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta e faccio una catenella di separazione Quindi catenella di separazione, 3 catenelle, la maglia di base Ok, lavoro in questa maglia qua, quindi è la sesta maglia dall'uncinetto Il mio primo punto puff Come si lavora il punto puff Mettiamo il filo sull'uncinetto come se dovessimo fare una maglia alta Entriamo nella catenella o nella maglia di base e prendiamo il filo e il filo che prendiamo lo allunghiamo a circa un dito altezza di un dito circa e adesso abbiamo fatto la prima parte del punto puff filo sull'uncinetto entriamo nuovamente nella maglia di base quindi nella stessa catenella prendiamo sul filo e lo allunghiamo alla stessa lunghezza di prima quindi circa un dito e abbiamo fatto la seconda io lo voglio fare da 4 da 4 svolte praticamente filo sull'uncinetto torno nella maglia di base prendo sul filo e allungo le mie catenelle 3 svolte filo sull'uncinetto torno nella maglia di base prendo su il filo e allungo anche qua la mia maglia quindi adesso ho fatto 4 svolte perché io lo voglio fare da 4 prendo il filo e lo passo attraverso tutte queste asole passo anche attraverso la catenella che c'è sull'uncinetto ok e adesso chiudo con una maglia bassissima e questo è il nostro primo punto puff da 4 facciamo una catenella di separazione e vediamo di lavorare il prossimo punto puff perché dico da 4 perché come vedete ho fatto 4 volte la svolta e l'inserto nella maglia ma si può fare benissimo anche solo 3 volte 5 volte 6 volte 7 volte in base a quanto vi piace più puffoso praticamente questo punto allora io di solito lo faccio sempre da 4 però quando magari lavoro un filo un filato un po' più sottile può essere che preferisco farlo anche da 5 adesso salto una catenella di base e lavoro nella prossima catenella un punto puff allora filo sull'uncinetto entro nella catenella e prendo su il filo e lo allungo e questo è 1 filo sull'uncinetto entro nella catenella prendo su il filo e lo allungo e 2 filo sull'uncinetto entro nella catenella prendo il filo e lo allungo e 3 filo sull'uncinetto entro nella catenella prendo su il filo e lo allungo tutti circa a un dito però anche qua dipende da voi dalla vostra mano a me di solito mi viene da un dito quindi vado avanti così prendo il filo adesso perché ho fatto le mie 4 svolte prendo il filo e passo attraverso tutte le asole che sono sull'uncinetto poi chiudo con una maglia bassissima e ho fatto il secondo punto puff faccio una catenella di separazione salto la prossima catenella e entro nella successiva facendo un altro punto puff filo sull'uncinetto entro nella catenella prendo il filo tiro filo sull'uncinetto entro nella catenella prendo il filo e lo allungo e abbiamo fatto 2 svolte filo sull'uncinetto entriamo nella catenella prendiamo il filo lo allunghiamo 3 svolte filo sull'uncinetto entro nella catenella prendo il filo lo allungo 4 svolte come vedete quando ho le mie svolte sull'uncinetto cerco di tirare un po' di aggiustare un po' il tiro poi prendo il filo passo attraverso tutte le asole con prudenza e poi chiudo con una maglia bassissima e abbiamo fatto un altro punto puff e così vedete quanto è facile il punto puff davvero non è tanto difficile l'unica difficoltà che possiamo trovare è nel passare il filo poi attraverso tutte le maglie che abbiamo sopra l'uncinetto ok vado avanti ancora per due punti quindi facciamo un altro punto puff vado un po' più veloce e chiudo con una maglia bassissima una catenella di separazione salto una catenella e nella prossima lavoro un punto puff come vedete è un punto molto molto carino soprattutto per progetti come copertine borse ma anche sciarpe capelli è veramente un punto che si può usare per qualsiasi progetti progetto ok faccio anche l'ultimo punto puff anzi chiudo la riga adesso vedete in questo caso ho due catenelle libere e chiudo la riga con una maglia alta però adesso sto lavorando così a mano libera non sto seguendo nessuno schema è solo per farvi vedere il punto quindi non prendetelo come regola ok facciamo anche una seconda riga giusto per farvi vedere l'inizio della seconda riga facciamo tre catenelle svoltiamo il lavoro e adesso vorrei lavorare nelle catenelle di separazione però potrei volendo anche lavorare sopra il punto puff ok quindi adesso ho fatto solo tre catenelle per svoltare filo sull'uncinetto entro sotto lo spazio della catenella e prendo sul filo ho fatto la prima svolta filo sull'uncinetto passo attraverso lo spazio prendo su il filo lo allungo seconda filo sull'uncinetto entro nello spazio prendo su il filo terza svolta filo sull'uncinetto entro nello spazio prendo su il filo quarta svolta e poi passo attraverso tutte le maglie e chiudo con una maglia bassissima una catenella di separazione e poi lavoro il prossimo punto puff attorno allo spazio di catenelle come vi ho detto questo è puramente indicativo quindi vedete adesso i punti puff sono spostati adesso vi voglio fare vedere invece cosa succede se lavoro sopra il punto puff il prossimo punto puff quindi è solo un esempio questo quindi facciamo adesso due catenelle giusto per avvicinarci a questa maglia qua e lavoro sopra il mio punto puff il prossimo punto puff quindi devo entrare nella maglia bassissima proprio qua sopra il punto puff filo sull'uncinetto prendiamo sul filo allunghiamo la maglia uno filo sull'uncinetto prendo il filo allungho allungo 2 filo sull'uncinetto prendo il filo allungo 3 filo sull'uncinetto entro nella maglia prendo il filo allungo 4 poi prendo il filo e lo passo attraverso tutte le asole che ho sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima ecco vedete adesso ho lavorato il punto puff sopra il punto puff io vi consiglio di allenarvi un po' con il punto puff se ancora non lo conoscete fate le vostre prove perché per il prossimo progetto ci servirà e faremo una variante molto molto carina del punto puff sono sicura che vi piacerà e non è tanto difficile però è fondamentale che conosciate questo punto questo è tutto per questo lunedì mi raccomando iscrivetevi al canale se avete domande lasciateli sotto a questo video nella sezione dei commenti e io vi risponderò prossimo lunedì ci vediamo per la nuova lezione di uncinetto e durante la settimana uscirà il video tutorial della sciarpa Bactus ci vediamo presto ciao ciao